Il fronte del sì, fondato su alcuni punti chiari, sulle grandi opere, sul taglio delle tasse, sulla riforma fiscale, sulla riforma della giustizia, riforma della scuola, valori la famiglia al centro. Su questo ovviamente negli ultimi mesi non si è fatto molto perché c'erano posizioni diverse. La famiglia al centro, il diritto alla vita. Il taglio dei parlamentari salva la poltrona Renzi e Boschi, commenta. Un governo PD 5 Stelle non durerebbe, al prossimo giro sparirebbero dalla scena politica.